se queste sono le premesse per il mercato invernale 2020 sono sicuro che ci sarà da divertirsi allora ragazzi io non mi aspettavo un colpo del genere vi dico la verità avevo già pronto un altro video per questa mattina che ovviamente sposterò alla giornata del primo gennaio quindi sarà il primo video ufficiale del prossimo anno e ve lo potrete gustare con tranquillità ma all'improvviso mi è arrivata una notifica di one football riguardante l'articolo che vi mostro qua a fianco a proposito se ancora non l'avete fatto scaricatelo tramite il link in descrizione a quanto pare la juve è riuscita ad acquistare o perlomeno ha praticamente concluso l'affare che porterà il talento svedese kulusevski patrimonio dell'uneschi citando il mio amico papirus alla corte di maurizio sarri il tutto a fronte di una spesa che prevederà 35 milioni più 10 di bonus da versare nelle casse dell'atalanta detentrice del cartellino del giocatore attualmente in prestito al parma con un contratto quinquennale a 2 milioni netti a stagione con il giocatore che potrebbe addirittura andare alla juve già nel mercato invernale in base ovviamente ad una possibile contropartita si parla di piazza che ovviamente non sta trovando spazio nell'attacco bianconero però tra le due opzioni è più probabile che il giocatore arriva la juve a giugno venendo comunque ufficializzato nel mercato invernale allora premetto prima di tutto che questo affare è una clamorosa conferma di come l'atalanta sappia far bene il mercato ogni volta ogni anno riesce sempre a vendere giocatori che fino a qualche anno prima non si sapeva neanche chi fossero a cifre faraoniche continuo l'elenco che ormai dura da diversi anni gagliardini che si conti caldara cristante mancini adesso kulusevski voi esperti di mercato fino a 6-7 mesi fa sapevate che era kulusevski non penso proprio e ora viene ceduto addirittura a 35 milioni più i decidi bonus per questo motivo ho scelto il titolo prima bastava un anno adesso bastano 5 mesi perché per kulusevski sono bastati praticamente 5 mesi ottimi sottolineo ottimi con la maglia del parma per diventare un giocatore della juve e far spendere alla squadra attualmente più forte di tutto il campionato quasi 45 milioni di euro veramente kulusevski pezzo che ha fatto 13 ha fatto cioè in poco tempo è riuscito a passare dal parma che con tutto il rispetto è una squadra di media classifica italiana a una delle squadre migliori di tutto il campionato italiano ed europeo ovviamente il titolo non lo faccio per andare contro lo stesso giocatore però mi fa un po pensare mi fa pensare perché nel mercato attuale pur di accapararsi i giocatori migliori si cerca sempre di fare la spesa più alta anche dopo pochissimo tempo con il rischio ovviamente di incappare in delle figuracce come ha fatto la roma con chic che dopo un anno ottimo con la samp se l'ha portato a casa per quasi 40 milioni anzi per più di 40 milioni e abbiamo visto quello che ha fatto con la nostra maglia male adesso con l'ips è ritornato un fenomeno sto grandissimo pezzo di ma cerchiamo di restare calmi allora io Kulusevski con la maglia del parma l'ho considerato e lo considero tuttora un grandissimo talento quest'anno secondo me è una delle sorprese più importanti di tutto il campionato un giocatore molto bravo tecnicamente non solo in velocità ma anche con i piedi ha dimostrato un'ottima tecnica e un'ottima visione di gioco soprattutto se consideriamo l'età giovane del giocatore quindi fare un investimento su di lui non è sbagliato non pensate che io dico queste cose perché l'ha preso la juve e se l'avesse preso un'altra squadra avrei detto cose completamente diverse io la penso in questo modo è un giocatore molto forte che sta facendo vedere grandi doti e grandi qualità però forse spenderci 45 milioni dopo mezza stagione ad alti livelli mi sembra un rischio un po' elevato nulla contro il giocatore ci mancherebbe anzi se continua così potrà tranquillamente diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo l'ho esagerata però comunque può diventare un talento molto molto importante però è bastato veramente poco per convincere la juve a fare un investimento del genere nel mercato attuale abbiamo visto spese folli per giocatori che non hanno dimostrato di valere quella cifra ad esempio viene in mente uno dembele del barcellona che è stato pagato 150 milioni 150 milioni e poi abbiamo visto quello che ha fatto non è un segone allucinante ma non è neanche un fenomeno come nel caso appunto di kurusevski per me la juve fa sicuramente un buon acquisto però ci sono molti rischi a riguardo perché se il giocatore poi si dimostrerà adatto più a piazze di media classifica piuttosto che piazze importanti tu hai comunque buttato una cifra importante non solo per il cartellino ma anche per lo stesso stipendio del giocatore che per un giocatore così giovane appunto alla prima vera stagione non è certamente poco non so quanto prenda adesso con il parma ma sicuramente non si avvicina neanche lontanamente ai due milioni crescenti che gli darà appunto la juve quindi sono rimasto abbastanza sorpreso perché di solito questi affari la juve non li fa cioè sì diciamo che spesso quando c'è una squadra italiana che si interessa un giocatore arrivano loro e se il prendono via iguain pianic bernardeschi non so adesso quanto possano essere contenti di aver preso bernardeschi ma comunque lo stesso appunto kurusevski molto spesso succede così nel mercato generale ma la juve lo fa molto spesso l'unica volta che l'abbiamo fatto noi è con i turbe e abbiamo visto quello che ha fatto lo abbiamo ripetuto qualche anno dopo con chic che aveva addirittura fatto le visite con la juve ragazzi non rubiamo i giocatori alla juve se la juve vuole prendersi un giocatore e la roma è interessata lasciamo glielo per l'amore del cielo perché da come stiamo andando finora più giocatori gli abbiamo fregato e peggio hanno fatto quindi lasciamo veramente perdere io lo ripeto non è un affare che mi aspettavo dalla juve me lo aspettavo tranquillamente dall'inter perché l'inter comunque in queste ultime stagioni sta prendendo giocatori che sono esplosi in poco tempo anche dandogli una buona dose di denaro come barella che però era da qualche anno che faceva bene o lo stesso sensi giocatori che si stanno rivelando determinanti per il gioco di conte e quindi mi immaginavo più un suo arrivo all'inter che alla juve anche perché nell'inter lo avrei visto meglio come qualità tecniche mentre invece nella juve bisogna capire un po quale collocazione il mister gli vorrà dare ora mi viene da pensare che se lo dovessero prendere a gennaio potrà essere messo sulla fascia ad alternarsi un po con i giocatori come edivale compagnia bella ma credo che lui abbia qualità più da trequartista e quindi secondo me adesso non è che devono adattare il modulo a lui però ci può stare anche un utilizzo come centrocampista perché ha i piedi buoni anche per poter lanciare gli attaccanti e fornigli palloni importanti quindi comunque sotto questo punto di vista è un giocatore polivalente che puoi anche mettere in diverse zone del campo ottenendo risultati sempre soddisfacenti quindi io concludendo il video con questo titolo non voglio dire che kolusevski sicuramente farà male alla juve è semplicemente una cosa che ho notato nel mercato attuale in cui basta veramente indovinare una stagione da dio e subito le squadre si menano si danno i cazzotti per portarti a casa adesso non più dopo una stagione intera ma addirittura prima dell'inizio del mercato invernale e mi auguro per la juve che non si tratti di un piontech 2 chi vuol capire capisca detto questo ragazzi allora vi chiedo come al solito tanti mi piace sotto questo video per continuare a supportarmi se volete iscrivetevi al canale e anche al canale telegram doppia ripetizione che lascio qua sotto in descrizione un saluto e sempre e comunque forza roma ciao ragazzi Grazie a tutti